Ma tu a che velocità cresci? Quattro volte più in fretta di voi. Come gli anni dei gatti? Sì, una specie. Fai conto, a vent'anni sembrerò vecchio. Comunque dicono che i primi venti sono i più belli. Mia madre dice che dopo inizierà la discesa. Io da grande vorrei assomigliare al mio miglior amico. Ha solo dieci anni però, sembra molto più vecchio. E' un po' l'adulto ideale, perché dentro di sé è ancora un bambino. Non ha paura di imparare cose nuove, di fare esperimenti, di parlare con la gente nuova, contrariamente a gran parte degli adulti. E' come se vedessero cose intorno a lui per la prima volta, perché lui è così e gli adulti non sono come lui. La maggior parte degli adulti pensa solo a lavorare, a fare soldi. E' abbattarsi con i vicini. E soprattutto, lui sa essere un grande amico. Più di tutti gli altri che sembrano adulti. Jack! No! Ciao, Jack! 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 Che piacere riaverti con noi. Mi scusi in ritardo. Non fa niente. Ciao, Jack. Ciao, Lewis. Beh, il tuo banco aspetta solo te. Stavamo ascoltando il confanimento di Lewis. Ciao, Jack! Ciao, Jack! Ciao, Jack! Ciao, Jack! Ben tornato! Piggio? Ben tornato! Lewis, puoi continuare. E soprattutto, lui sa essere un grande amico. Più della maggior parte dei veri amici. Non so cosa vorrò essere quando sarò un uomo. E adesso neanche mi interessa. Però so di certo che voglio assomigliare. Voglio assomigliare al gigante. Amaciste. Al mio miglior amico. Jack. Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.